Primo maggio a Ravenna, per molti un'occasione per riflettere sui temi caldi di lavoro, disoccupazione e pari opportunità. Per altri, solo una bella giornata di sole e vacanza. Primo maggio in quanto donna e lavoratrice. Allora, io sono stata donna, lavoratrice e madre, quindi ho dovuto conciliare i momenti veramente in cui era difficile essere tutte e tre le cose. Adesso vedo nei figli una festa non sentita, una festa che è per il lavoro ma non c'è lavoro. E quindi mi sembra una festa, non una festa, ma qualcosa che si celebra per ricordare qualcosa che si era cercato di ottenere e adesso non c'è. Primo maggio è il riconoscimento di tutti i lavoratori che hanno fatto l'Italia, in tutto il mondo viene festeggiata. Noi purtroppo adesso non la riconosciamo più, perché col fatto dell'economia non viene rispettato nessuna regola. Ha ancora un valore secondo lei celebrare la festa del primo maggio? Il valore rimane, rimane un po' la mare in bocca se vogliamo, perché dovrebbe essere proprio la valutazione del primo maggio. il pregio di dover apprezzare mai il lavoro quando non c'è. Nel primo maggio per noi che abbiamo una storia, abbiamo i capelli bianchi, ha un forte significato di lavoro, di festa del lavoro di tutti i lavoratori, almeno per l'Italia. Ma secondo lei i giovanissimi adesso sentono il valore di questa festa? Secondo me no, francamente. Sono valori perduti, che noi sentiamo perché abbiamo i capelli bianchi. Noi lavoriamo da poco, per cui non è una festa sentitissima, almeno per il momento. Però, beh dai, magari in mezzo a tanto, come dire, è giusto valorizzare la figura del lavoratore. Questo anno cade bene che c'è anche il ponte, quindi ne abbiamo approfittato per fare un giretto. Quindi è più un'occasione di vacanza che non di riflessione politica o sociale? Purtroppo a volte sì, è vissuta come occasione di vacanza, anche se in effetti mi rendo conto che dovrebbe avere più un valore anche sociale. Non sempre ci pensiamo, purtroppo. L'importanza del primo maggio soprattutto per le donne? Che le donne non sono state mai riconosciute di niente, abbiamo lavorato come dei sommari e purtroppo, quando è la fine, mal che vada, forse avvalso un po' più i nostri uomini, ma noi proprio niente. Soprattutto uno come me che ha fatto l'abbracciante, la donna di servizio, sono arrivata, che non mi danno neanche la pensione, che ho versato i contributi. Però mi fanno il conguaglio con mio marito che era un operaio e prendo 170 euro di pensione. Anzi, quest'anno mi hanno tolto 1 euro, 169. La discriminazione femminile sul lavoro è stata combattuta o esiste ancora? No, esiste ancora. Esiste ancora in Italia, purtroppo. Non ci sono avanzamenti paritetici agli uomini, non c'è assolutamente la stessa ritribuzione. Ci sono ancora tante cose da fare e si fa pochissimo ancora. Allora, la mia esperienza è ancora poca, però posso dire che effettivamente qualche discriminazione c'è ancora e purtroppo perché parlare di discriminazione nel 2012 non è una cosa positiva. Non so bene cos'è per me il primo maggio oggi e comunque io oggi non lavoro, quindi è un giorno di festa. Non basta un giorno per festeggiare il lavoro, però sono cose che si devono costruire. Il lavoratore deve continuare a lottare per i propri diritti? Certo, sì. Se abbiamo fatto sciopero 40 anni fa, adesso non è più valido niente? Non mi faccia arrabbiare, signora. Manuela Fogliera per Ravenna Web TV